Musica Sicurezza, viabilità, aree, fabbricabili e potenziamento dell'offerta turistica Ha presentato a Fano il nuovo piano regolatore che cambia il volto della città Per il Movimento 5 Stelle porterà una gigantesca colata di cemento per oltre 3 milioni di metri quadrati Pesaro, città-cantiere, al via 20 milioni di euro di interventi nell'area del Cavalcaferrovia, Stazione e Via dell'Affiodotto Per sindaco e assessori sarà una stagione straordinaria per riqualificare e rendere più sicura e accessibile la città Zone 30, marciapiedi, piste ciclabili e nuove pavimentazioni L'assessore Brunori annuncia gli interventi di mobilità sostenibile nei quartieri di Sant'Orso e San Lazzaro di Fano Lavori e al via dalla prossima settimana Per un intero weekend Fano diventa la capitale dell'olio extravergine d'oliva Il 22 e 23 aprile al Pincio e alla Pinacoteca San Domenico ritorna il Gran Cala dell'olio Ed Exfolia 10.000 presenze al Masetti dopo i lavori di ristrutturazione Il cinema fanese festeggia il traguardo con i protagonisti del film Sing of Love Tra i cui il figlio di Chopin In bici alla scoperta delle bellezze della provincia Dal 23 al 25 aprile torna l'Adriatic Green Trail Tra gli eventi collaterali un'espulsione alla scoperta della Fano Romana E una pedalata di 10 km adatta anche ai più piccoli nel segno dell'inclusione Mercoledì 19 aprile benvenuti a Occhio alla Notizia il telegiornale di Fano TV Apriamo con il nuovo piano regolatore generale presentato alla città Dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi La matrice del documento che disegna la Fano che verrà È stata illustrata ieri in una sala gremita del Fano Marine Center Ora sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio di Massimo Foghetti Dopo l'illustrazione agli ordini professionali Anche la città inizia a conoscere le scelte dell'amministrazione comunale Sul nuovo piano regolatore Lo strumento urbanistico nella sua formulazione di Massima È stato presentato nella sede del Marine Center Dal sindaco Massimo Seri Dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi E dai tecnici progettisti Tantissime le persone presenti Questo che presentiamo oggi è frutto di un lavoro di diversi anni Abbiamo iniziato partendo dal fatto che il PRG attuale vigente È esagerato nelle dimensioni, nelle previsioni E forse non è stato attuato neppure per una minima parte E allora abbiamo deciso di studiare meglio la nostra città Partendo dalla realizzazione di un piano strategico Che l'abbiamo chiamato Fano 20-30 Orizzonte Fano 20-30 Un piano strategico che abbiamo fatto sia studiando i dati della città Le eccellenze, le lacune e le cose che potevamo migliorare Sia ascoltando tantissimi stakeholder Rappresentanti di associazioni Del terzo settore E di professionisti Che ci hanno dato una mano per focalizzare Qual è l'obiettivo di Fano nei prossimi anni Da questo è partito poi un lavoro più preciso Fatto da Mata Engineering, dal professor Stanghellini e da Dream Che si sono unite e hanno vinto l'appalto Che il Comune di Fano ha indetto Per realizzare il nuovo piano regolatore della città Un insieme di norme tecniche, di mappe, di studi E appunto di previsioni Che abbiamo sviluppato in questi anni E che crediamo possano proporre una visione di Fano Nel futuro, diversa dall'attuale Molto più centrata sugli obiettivi e le qualità della nostra città Molti sono gli aspetti trattati dal piano regolatore Sia in senso culturale, che sociale, che economico Dati che poi si traducono in norme e in scelte Che riguardano le diverse vocazioni della città Come ha sottolineato Fanesi Dal mare alla campagna Fano in fondo è una città molto legata ovviamente al mare È una città che si trova in una vastissima e fertilissima Pianura in fondo al fiume Metauro È una città che ha tante infrastrutture Oltre che viarie anche energetiche E quindi sicuramente rappresenta un'eccellenza Ha una zona industriale fantastica E in più intorno al mondo dell'oil and gas Che è nato tanti anni fa con Sdamprogetti Si è sviluppato un indotto veramente un'eccellenza a livello nazionale Fano potrebbe essere ancora di più una città turistica Se riusciremo ad attrarre gli investimenti privati Che servono anche per realizzare nuovi hotel Oppure nuove zone di espansione turistica E per fare questo abbiamo bisogno di scelte importanti Come ad esempio per me l'arretramento della ferrovia Pensate cosa potrebbe essere il lungomare di Torrette Metauriglia, Ponte Sasso senza la ferrovia che la traversa E potremmo riutilizzare quel sedime Per appunto dedicare a spazi pubblici quelle zone Partendo dallo spostamento della ferrovia Fanesi ha annunciato altre previsioni Che riguardano soprattutto la sicurezza e la vivibilità della città Una città che dovrebbe essere ancora più bella e confortevole Con piazze, parchi e impianti sportivi In ogni quartiere è una mobilità più razionale Lo spostamento della strada statale 16 a sud del Metauro Arretrandola vicino all'autostrada Sono tutte possibilità che potrebbero far emergere Se pianificate bene anche investimenti importanti In più il comune ci mette del proprio Perché l'investimento anche di soldi pubblici Nella riqualificazione del waterfront Sia di Fano Centro che di Fano Sud Sicuramente riusciranno, io mi auguro A tirare investimenti di qualità Sia a sud che a Fano Centro Per appunto migliorare l'offerta turistica Una delle previsioni è quella di espandere il centro storico Verso il porto da una parte E verso la stazione dall'altra Creare un asse di servizi dalla zona sportiva Trave Al nuovo parco urbano Passando per il cimitero, i licei La caserma, l'ospedale, lo stadio, l'aeroporto E per estensione arrivando dall'Arzilla al Metauro Un asse trasversale connettivo Dei maggiori servizi pubblici Da far emergere e valorizzare Con un progetto di suolo Che favorisca la percezione Di un unicum e ne renda piacevole Sicuro ed accessibile il percorso Tanto altro ancora emergerà Nei prossimi incontri Programmati nei quartieri Dove verranno presi in esame Specifiche richieste e previsioni Nove anni di serie per partorire un altro PRG Aguzzi È il commento dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Che reputano esagerati gli entusiasmi strombazzati su tutti i media Dal vice sindaco Fanesi Dopo i fiumi di parole sulla sostenibilità e sulla tutela dell'ambiente Si legge in una nota del Movimento Chiunque si sarebbe aspettato un tendenziale azzeramento Della scandalosa quantità di nuove edificazioni Prevista dal PRG vigente Approvato nel 2009 Dalla giunta di centrodestra Guidata da Aguzzi Invece hanno proseguito i consiglieri Ci troviamo con la conferma Del 63% delle aree edificabili A fronte di un 27% Di comparti stralciati Che quindi rimarranno agricoli Mentre il restante 10% È già stato attuato Risultato Il PRG Green Porterà una gigantesca colata di cemento Sulla città Per oltre 3 milioni di metri quadri Le superfici commerciali Come quelle di Centinarola Via 4 Novembre E Gimarra Con la realizzazione Di nuovi grandi supermercati Non faranno altro Hanno concluso i 5 Stelle Che dare l'ammazzata definitiva Al piccolo commercio Di vicinato E sull'argomento è intervenuto Anche Enzo Di Tommaso Coordinatore di Forza Italia Fano Mi aspettavo non solo teoria Ma anche il concreto Si legge nel comunicato La presentazione è piuttosto fumosa E poco realistica Nulla Ha aggiunto Di Tommaso Emerso sull'area dell'ex zuccherificio E solo un accento Sul Vittoria Colonna Un immobile che dovrebbe essere utilizzato Per sopperire alla richiesta di alloggi in RSA I vari tecnici Ha concluso il coordinatore Hanno parlato di una gestione diversa del territorio Senza mostrare in concreto come A nostro avviso È solo una carrellata Per dire tutto e nulla Tanto è il cittadino che paga Le parcelle dei grandi luminari E ora andiamo a Pesaro Dove domani inizieranno i lavori Sul Cavalca Ferrovia Si tratta del primo di una serie di Interventi importanti Per il rinnovamento urbano I particolari Nel servizio di Marco Lonigro Si è svolta nella giornata odierna Una conferenza stampa Per fare il punto sui lavori pubblici Dell'area stazione Via dell'Acquedotto E Cavalca Ferrovia Presente il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Che ha illustrato Tutte le operazioni di rinnovamento Che riguarderanno la città Vi invito tutti a visitare il sito Pesaro che cambia.it Dove si vedono tutti i lavori E tutti i finanziamenti Che abbiamo attratto Oggi abbiamo presentato 20 milioni di lavori Che partiranno nei prossimi giorni Nelle prossime settimane Tutti concentrati Intorno all'area Tra la stazione e il Cavalca Ferrovia In particolar modo La nuova stazione La riqualificazione della stazione esistente 8 milioni di euro Il rifacimento della Cavalca Ferrovia 3 milioni di euro Il sottopasso dei cappuccini Altri 800 mila euro E poi il ponte ciclo pedonale Che collegherà Tombaccia Con la stazione Via dell'Acquedotto Tanti lavori in quella zona Sia di parcheggi Sia di strutture sociali Quindi davvero Un investimento molto importante Ovviamente Quando iniziano i lavori Ci sono anche dei disagi Chiediamo pazienza ai cittadini Comunicheremo gradualmente I cambiamenti di viabilità Iniziare ovviamente Dalle prime modifiche Una trasformazione importante Per la città Che si appresta a vivere Un evento importante Come il Pesaro Capitale della Cultura 2024 Sì intanto abbiamo chiesto Nella gestione dei cantieri Qualità Nelle impalcature Nella cartellonistica Abbiamo chiesto anche Di apporre Dall'addove possibile Il brand Della Capitale della Cultura Perché è anche un modo Per dimostrare Che la Capitale della Cultura Sta dentro Questa trasformazione Che Pesaro sta avendo E che nelle prossime settimane Nei prossimi mesi Sarà sempre più evidente Previsto per domani L'inizio delle operazioni Sul Cavalca Ferrovia E ovviamente Ci saranno alcuni cambiamenti Che riguarderanno La viabilità Già da domani Il lavoro sul Cavalca Ferrovia E il tratto interessato Quello che va tra Via Fratelli Bandiera E l'oratorio Della Chiesa dei Cappuccini È un lavoro che va a step E questo primo cantiere In qualche modo Comporta un cambiamento Sostanziale della viabilità In primis Via Fratelli Bandiera Subirà un'inversione Di marcia Quindi si andrà Diciamo Dal via Montegrappa A scendere Verso via Rosolino Pilo Mentre prima Era il contrario Mentre su via Cardinal Massaia Che è la via Che ci permette Di accedere Alla Chiesa dei Cappuccini E a tutta l'area di sosta A disposizione della città Quindi Porta Capuccina E il parcheggio Della stazione ferroviaria Subirà anche questo Un'inversione Di marcia Quindi permetterà Alla Chiesa Di avere Insomma I fedeli Che potranno accedere In maniera tranquilla All'attività della parrocchia E permetterà I pesaresi Che hanno bisogno Di cercare Un posto auto gratuito A ridosso del centro Di arrivare Ai due parcheggi scambiatori Poi per uscire Si andrà in direzione Via Solferino E poi per chi vuole tornare in centro Farà la rotatoria Di via Solferino E tornerà sul cavalco a ferrovia Criticità L'avremo con I tanti ciclisti Che arrivano Insomma Dalla zona di Villa Fastigi Di Villa San Martino Da Pantano Che scendendo Verso il centro E verso il mare Troveranno il sottopasso Dei cappuccini Interdetto Lì andremo a creare Su via Cardinal Massai Una corsia A doppio senso di marcia Per le biciclette E non si fermano Nella nostra regione Gli attacchi Dei lupi Nei confronti Di animali Da allevamento E da compagnia Così come sono in aumento Gli avvistamenti Dell'animale Nei pressi Dei centri abitati Per questo Il consigliere Dei civici Marche Giacomo Rossi È tornato con forza Sull'argomento Lo scorso dicembre Ha dichiarato Insieme al collega Mirco Bilò Della Lega Ho presentato Una proposta Di deliberazione Alle camere Sul tema Essendo trascorsi Quattro mesi Senza che sia stata Discussa in commissione Come da regolamento Ha proseguito L'esponente Dei civici Marche Abbiamo richiesto Di assegnare Ulteriori 60 giorni Per l'esame Al termine Dei quali Sarà automaticamente Iscritta all'ordine Del giorno Dell'assemblea Legislativa Per la discussione Tutto questo Per fare in modo Che la questione Venga affrontata Con l'urgenza Che merita E torniamo a parlare Del famose Il progetto Elaborato Dal comune di Fano Insieme ai comuni Di Mondolfo E Senigallia Dedicato Alla mobilità Sostenibile Oggi L'assessore Barbara Brunori Ha annunciato Gli interventi Che verranno realizzati Nei quartieri Di San Lazzaro E Sant'Orso La prossima settimana Partiremo Con un intervento Molto importante Di un progetto Del Ministero Dell'Ambiente Per quanto riguarda La mobilità Sostenibile Legata a percorsi Casa Scuola Casa Lavoro A questo intervento Abbiamo partecipato Grazie alla collaborazione Con i comuni Di Mondolfo E di Senigallia Di cui è capofila E per quanto riguarda Fano Interverremo Su due zone In particolare Una Su a San Lazzaro In Viale Mariotti E su Piazzale Bonci Con appunto Il rifacimento Di quello che è Un marciapiede Una pista ciclabile Metteremo a dimora Anche delle nuove Alberature Una pavimentazione Autobloccante Proprio per favorire Anche quello che poi È il drenaggio Dell'acqua E quindi evitare Pozzanghe E disagi ulteriori E tanto di cartellonistica Che sull'asse Andrà sicuramente A moderare La velocità E a favorire quindi Una mobilità sostenibile L'altro spazio Dove interverremo Invece è Sant'Orso Soprattutto su due arterie principali Quindi via Galileo Galilei E via Bellandra Ma anche diciamo In zone In vie limitrofe Legate a questo Spazio stradale Proprio perché Si vuole andare A creare una zona 30 Per mettere in sicurezza Non solo i bambini Delle scuole Ma anche tutte le persone E ciclisti Pedoni Che attraversano Quell'area Compresi i residenti Che naturalmente Abitano Hanno le abitazioni Pertinenti All'asse stradale In questo caso Si tratta di interventi Appunto Di cambi di pavimentazione Di porte d'accesso Con una segnaletica Pertinente E dei ristringimenti Per entrambi i lavori Sia che riguardano appunto Viale Mariotti E anche a Sant'Orso Necessitano di due mesi Di lavoro Rispettivamente Significa che complessivamente Diciamo che Tutto all'opera Ci necessiterà Di 4 o 5 mesi Ecco Mi tengo un pochino Più larga Viste le condizioni Del tempo Il valore dell'intervento È di 511 mila euro Di cui 311 sono finanziate Dal ministero E 200 mila Sono risorse comunali È importantissimo Investire su quello Che è la mobilità leggera Proprio anche A livello di salute Non a caso In questi giorni Sia oggi che domani Proprio in questi In queste due aree Sia di San Lazzaro Che di Sant'Orso Stanno facendo Delle rilevazioni Del traffico Perché poi Per andare a Consuntivare Quello che è Il beneficio Dell'intervento Chi si realizzerà Sull'impatto ambientale Noi andremo A recuperare Questi dati Ed ora Apriamo la pagina Dedicata alle vostre Segnalazioni Il primo reporter Di strada Ci fa notare La pericolosità Dell'incrocio Nello spartitraffico Che da Sant'Andrea Invillis Porta verso Il quartiere Di Fenile di Fano Come vedete La visibilità È pari a zero Vista all'alta Vegetazione La seconda Segnalazione Invece Ci arriva Da Cucurano di Fano Più esattamente Lungo la Flaminia Nella zona Della banca Il telespettatore Lamenta La presenza Di questi due Paletti Legati Lungo Il marciapiede Che porta Verso il supermercato Una volta Sono caduto a terra Detto Andrebbero rimossi O almeno Segnalati meglio Per schivarli Bisogna andare Verso la strada Dove passano Le automobili Nelle Marche La stagione Balneare 2023 Inizierà Il 29 aprile E terminerà Il 17 settembre Per le acque Marino costiere E per quelle Interne Degli invasi Artificiali Mentre per l'acqua Fluviale La stagione Inizierà Il 24 giugno E si concluderà Il 3 settembre Lo stabilisce Una delibera Della giunta Su indicazione Dell'assessore All'ambiente regionale Stefano Guzzi Che definisce Le azioni Di competenza Regionale Per gli adempimenti Sulla gestione Delle acque Di bagnazione E l'attività Di tutela Dei bagnanti Ed ora Parliamo di eventi Questo fine settimana Nel centro storico Di Fano Torna il Gran Galà Dell'Olio Con due momenti Distinti Il primo Al Pincio Con l'esposizione Di prodotti E poi Alla Pinacoteca San Domenico Con le premazioni Ai produttori Di olio Il Gran Gala Dell'Olio L'Oro d'Italia E del Mediterraneo Torna nella città fanese Nelle date Del 22 23 aprile Con un weekend Ricco di profumi Ed eccellenze Dedicati all'olio Ricavato dalle olive E ovviamente Ai suoi interpreti Principali Gli olivicoltori E i frantoiani Dopo il successo Dello scorso anno Si riconferma La riuscitissima Mostra mercato Ex Polia Il salotto Del gusto Nella splendida Cornice Del Pincio Dove 25 produttori Del nostro territorio E oltre Esporranno Le migliori qualità D'olio E i prodotti Tipici locali E la quarta edizione Qui a Fano Qui si svolge a Fano Altrimenti E la quindicesima edizione Del Gran Gala dell'Olio Prima svolgevamo In Puglia Ma abbiamo voluto Portarlo Nella nostra città Alla manifestazione Hanno partecipato I nostri concorsi Due concorsi Nazionale e internazionale L'Oro d'Italia L'Oro del Mediterraneo Oltre 400 oli Dei migliori oli D'Italia E del Mediterraneo Che molti Potranno degustare Potranno Acquistare Nella manifestazione Ex Polia Il salotto Dell'Oro dell'olio Si terrà Al pincio L'arco Ad augusto Nel giorno Sabato 22 Domenica 23 L'inaugurazione Della manifestazione Sarà il mattino Alle 10 di sabato Quindi invitiamo Tutte le persone Tutti gli amanti Di questo prodotto Ad avvicinarsi A queste iniziative Cominciando da sabato mattina Fino a domenica Con la mostra Il mercato E le premiazioni Che si terranno sabato Durante il pomeriggio Di sabato 22 Il tradizionale appuntamento Con le premiazioni Dei migliori oli Alla Pinacoteca San Domenico Quest'anno Ad essere premiati Anche produttori Fuori Italia Tra cui Croazia E Turchia Che hanno partecipato Al concorso Quest'anno Troviamo ancora Qualità Nonostante Un'annata sfavorevole Che ha ridotto Il quantitativo totale Degli oli prodotti In Italia Noi a Fano Vedremo ancora Arrivare Per la premiazione Dei nostri concorsi Produttori da tutta Italia E anche da stati esteri La qualità Dell'olio È una cosa Ancora sconosciuta Ai più Quelli che noi Premiamo Sono l'apice Della produzione Di una piramide Che vede Una base Fatta di extravergini Con qualità comuni Ma poi l'olio Può esprimere Sapori e aromi Tali Da poter migliorare Tutti i piatti In cui questi prodotti Possano essere aggiunti Dunque due giornate Che animeranno Il centro storico di Fano Tra le eccellenze Di questo prodotto Dalle molteplici proprietà Organolettiche Salutistiche E culinarie Chi vorrà Avrà la possibilità Di acquistare Di assaggiare I migliori oli Da tutta Italia Ecco un progetto Che segue La strategia Di valorizzazione Della gastronomia E delle nostre eccellenze Perché crediamo Effettivamente Che anche con questi eventi Si possa creare Una promozione vera Del nostro territorio E invece Per gli amanti Della bicicletta Da domenica 23 A martedì 25 aprile Torna L'Adriatic Green Trail Che porterà I ciclamatori Anche alla scoperta Della città Della fortuna Il servizio è Di Simona Zonghetti Tre giorni in bici Per scoprire Le bellezze Della provincia Di Pesero e Rubino E regalare ai ciclisti Un'esperienza Da assaporare lentamente A ritmo di pedalate Per gli amanti Della due ruote Dal 23 al 25 aprile Torna L'Adriatic Green Trail L'iniziativa Nata dalla passione Di quattro amici Che per la seconda edizione Conta di arrivare A 200 partecipanti Il progetto Ha l'obiettivo Di promuovere E sviluppare Un turismo Esperenziale E sostenibile Che porti a scoprire Le meraviglie Di 30 borghi Ricchi di arte Natura Tradizioni E sapori Il tutto Senza un tempo limite E nelle strade Secondarie Prive di traffico E non vediamo l'ora Finalmente di pedalare Saranno come l'anno scorso Tre giornate cicloturistiche Che vedranno il 23 Essenzialmente Toccare i percorsi di Pesero Quindi con la bellissima panoramica Poi andremo a Gradara A Tavuglia E tutti a Vallefoglia Fino a Montefabri Ogni giorno Partenze d'arrivo Saranno da un casolare Di campagna Situo a Santa Maria Della Rzilla Magione Broccoli Che si presta bene All'evento A godere la giornata E la festa Il 24 aprile Sarà la volta di Urbino In cui raggiungeremo Urbino Attraverso strade secondarie Inedite Priva di traffico E passeremo per una chiesa bellissima Che è Monte Santa Maria Che vi invitiamo poi tutti Andare a visitare Raggiungeremo quindi Urbino Per poi tornare Nelle nostre zone Passando per le Cesane E quindi toccheremo anche Montbaroccio L'ultimo giorno L'apoteosi finale Finalmente siamo nella nostra città Fano In cui ci sarà la bellissima Passeggiata Dell'Isippo Faremo tutta la costa adriatica Ecco perché anche il nome Adriati Green Trail Perché sarà un connubio Tra collina e mare Quindi andremo sui nostri Borghi bellissimi A cominciare da Mondolfo Fino a raggiungere poi Le zone più interne Mondavi, Orciano E torneremo poi Per le zone di Cartoceto Saltare Ci sarà un emozionante passaggio All'interno del Museo del Balire Domenico ci sono in programma Diversi eventi collaterali Che cosa è previsto Nello specifico? Abbiamo arricchito L'offerta dei tre giorni Anche con una passeggiata In bicicletta ovviamente Per la Fano Romana Che poi culminerà Con un Diciamo Apericena Presso il Bastione Sangallo E il 25 invece Una pedalata femmine Come l'anno scorso Con partenza dal Pincio Ed arrivo in Maggione In cui faremo La festa Con un pasta party E con un hotel a party Per tutti i bambini Perché è una passeggiata Adatta a tutte le famiglie E anche ai bambini La partecipazione è gratuita Ed eventualmente Come è possibile iscriversi? Allora Andando sul nostro sito La partecipazione è con un contributo Soprattutto per ciò che riguarda La giornata Della passeggiata Family Perché abbiamo Forbici Che richiede Un'assicurazione necessaria Per mettere tutto in sicurezza L'evento Perché ogni evento Dovrebbe essere così Unire sport Turismo E cultura Questo è assolutamente importante E partirà con un evento collaterale L'Adriatic Green Trail Proprio con una visita In bicicletta In giro per il centro Della città Per poter con più calma Grande traguardo Da settembre 2022 È iniziata Diciamo la programmazione ordinaria Per l'annualità Di quello che è il cinema Che va da La stagione da settembre Insomma a luglio Abbiamo aperto con Il signore delle formiche E ad oggi Noi ci sentiamo di dire 10.000 volte grazie Ed oltre Cioè tutte le persone Che sono state da noi Appunto da settembre A questa A questa parte Per noi è un traguardo Molto bello Importante Perché Vuol dire che Comunque Avevamo già la conferma Ma Fana è una città viva Anche dal punto di vista culturale C'è molta attenzione E abbiamo avuto Noi siamo molto soddisfatti Del riscontro Dei commenti E della vicinanza Del pubblico Per festeggiare Avete organizzato Un importante appuntamento Sì Per ringraziare Il numeroso pubblico Sperando insomma Che ce ne sia ancora Noi abbiamo portato Fatto venire dall'America Due attori Uno è Hooper Jack Penn Che è il figlio di Sean Penn E l'altro è Zoe Bleu Che è la figlia di Rosanna Arquette Presenteranno al Masetti Alle ore 20.45 Di mercoledì 17 maggio Il film Science of Love Ci sarà un incontro Di una mezz'oretta circa In cui il pubblico Porta a fare domande Insomma comunque Sono due divi Di Hollywood E noi siamo contenti Di averli in sala Altri appuntamenti? Altri appuntamenti Allora Diciamo che Da Cann Oltre al film Di Nanni Moretti Che dicono essere super Così Insomma Chi l'ha visto Ci racconta Il Sol dell'Avvenire In programmazione Da giovedì 20 aprile Tutti i giorni Avremo anche Il film Rapito Di Marco Bellocchio Dal 25 maggio Più altri appuntamenti Insomma Tra i due Che però Insomma Non stiamo qui a raccontare Ma seguiteci Nel nostro sito Che è www.masetticinema.it Luca ci sono diversi progetti Su cui il Masetti Sta lavorando Ad esempio Una collaborazione Con le scuole Eh sì Perché riportare i ragazzi Al cinema È una delle priorità Del cinema Masetti Una delle priorità Anche del gruppo di lavoro Di Cinefortune Che è una manifestazione Che ogni anno Si tiene a Fano E questo progetto Ha fatto sì Che si attivasse Un rapporto Con il liceo Torelli E di questo ringrazio Il professore Andrea Boschini Che ha visto 35 ragazzi Fare un percorso Laboratoriale Di lavoro Sull'immagine Di alfabetizzazione Cineautografica E quei ragazzi Poi porteranno Quel lavoro Proprio in sala Trovando attraverso La loro comunicazione social Il modo di raccontare Un film Di raccontarlo Ai loro compagni Ai loro genitori Ai nono nonni E di raccontarlo Anche in sala Proveremo ad implementarlo Con altre scuole Perché il primo progetto È andato molto molto bene I ragazzi Sono stati straordinari E i prossimi appuntamenti Per quanto riguarda Il cinema Masetti E le proiezioni Che vedranno Protagonisti Appunto i ragazzi Sono Il 2 maggio Bigger than us Che è un documentario Che parla Di sostenibilità ambientale Il 9 maggio Piano piano Che è una delle opere prime Più belle E accattivante Per gli stessi ragazzi Come spettatori Di Nicola Prosatore E il 17 maggio Signs of Love Con ovviamente Gli ospiti che sapete E vi ricordo che Venerdì pomeriggio Dalle 17.30 Fano TV Trasmetterà in diretta Dal Teatro della Fortuna La cerimonia di consegna Del premio La Fortuna d'Oro Assegnato Dalla Commissione A Francesco Tonucci E Carlo Simoni In vista dell'evento Il nostro programma In salute Verrà anticipato A domani pomeriggio 20 aprile Alle ore 18 E nella nuova puntata Si parlerà di artrosi Invece lunedì prossimo 24 aprile Il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti Sarà ospite A primo cittadino Nei nostri studi Ecco in questo cartello Tutti i recapiti Per intervenire In diretta E subito dopo di noi Le previsioni del tempo E a seguire Uno speciale Dedicato alla Confartigianato Imprese Ancona Pesaro E Urbino Sulla presentazione Della diciottesima edizione Della scuola per imprenditori L'appuntamento invece Con l'informazione Torna come sempre Domani mattina Alle ore 7 Con la rassegna stampa Grazie per essere stati con noi E buon proseguimento di serata Con i programmi di Fano TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.